60 Seconds del martedì, amici, oggi provo, sono due notizie che non riescono a stare insieme, ve lo dico, ve lo dico, però comunque provo a, perché in realtà scavando poi un senso c'è, mettere insieme appunto due notizie. L'una è più che una notizia un'immagine, i bambini che profughi, che in Ucraina arrivano tra le mani di coloro che li accolgono, la Polonia, la piccola Moldova, comunque qualsiasi paese europeo in cui possano dirigersi, arrivano con sulla schiena scritto il nome, il cognome, dei riferimenti di base, la data di nascita o quant'altro, anche magari informazioni sanitarie. Questo perché i genitori, con il terrore di venire uccisi, almeno lasciano, come dire, una testimonianza sulla carne viva dei propri bimbi, pensando a quando potranno arrivare in salvo nelle mani di chi li accoglierà. Fermiamoci cinque secondi a riflettere su qualcosa del genere. E la memoria corre, per esempio, a quei genitori che, attraversando il Mediterraneo, comunque un braccio di mare, cercando di fuggire dalla fame, arrivare in Europa e via dicendo, vestono i bimbi di colori sgargianti, in modo a renderli più visibili anche nelle ore notturne, nella malaugurata ipotesi, purtroppo quanto mai probabile, di naufragi. Ok, ci siamo presi qualche secondo per questa riflessione, poi riflettiamo sulla reazione della Lega oggi alla decisione del nostro Ministero degli Esteri di espellere alcuni diplomatici russi, esattamente come fatto ieri da Francia e Germania. La Lega dice no, bisogna dialogare. Io vorrei chiedere a questi signori che sono così ansiosi di dialogare. Sono quelli che, peraltro, non hanno alcun ansia di dialogo, per esempio, con il rapinatore che dovesse scappare disarmato e viene colpito alle spalle dal derubato a cui sono partiti cinque minuti. Lì non si dialoga e quindi bene le armi, armiamo i cittadini, eccetera, eccetera, e invece con Putin dialoghiamo. Ma riflette, anche qui, prendiamoci cinque secondi per riflettere. Ma anche basta, ma anche basta cercare quattro like a costo zero, perché non è a costo zero, ma neanche un po'.